Buongiorno a tutti, sono arrivata due giorni fantastiche per abitare di Wurzbegis, che è un trattore meraviglioso. Sono arrivata da qui e vi è piaciuto molto bene, siamo arrivati a vivo con la guida, gentilissima, che mi è venuta a prendere come tassista, e abbiamo raggiunto Samarkand. Samarkand è una città per gli italiani più famosa di Wurzbegis, è bellissima, è una città che si trovava sulla via della Seda, le piazze sono meravigliose, le matrasse sono meravigliose, c'era anche un bel sole perché qui ieri è cominciata la primavera e siamo stati molto bene. Poi abbiamo raggiunto con il treno veloce questa città, Bukhara, che è meravigliosa, c'è un minareto che è uno dei più antichi di tutta l'Asia, proseguiremo il nostro viaggio per Kiva e poi torneremo a Tashkent. Wurzbegis è veramente bellissimo, vi consiglio di venire e di vederlo.